Grazie Presidente, mi dubbio che la questione dei tempi fuori bilancio rappresenta una delle problematiche maggiori che si possono presentare nel Consiglio Comunale, ma la questione del Consigliere Comunale, secondo me rappresenta una delle difficoltà maggiori dei Consigliere Comunale che o in un caso o nell'altro caso si trovano comunque di fronte a responsabilità usate. La richiesta dell'opposizione fatta dal Consigliere Beghe e presa da sottoscritto ha dato proprio questa direzione, siccome a conoscenza dei Consigliere Comunale e dei membri della Commissione bilancio, la presenza di numerose debiti fuori bilancio oggetto di sentenza esecutiva, la nostra richiesta di portare il Consiglio Comunale per il riconoscimento era proprio quella di evitare un terrore aggario di spesa di sentenze esecutive che possono essere appunto oggetto di responsabilità votabile da parte dei Consigliere Comunale. In questo senso è stata fatta la richiesta dell'opposizione di convocato il Consiglio Comunale anche perché non affrontare l'obbligologia del credito fuori bilancio di Consiglio Comunale, soprattutto quelli oggetto di sentenza esecutiva, fa intercordere l'assolitello tra il riconoscimento, il pagamento dalla natura, dal socio dell'obbligazione che rappresenta altresì una responsabilità votabile da parte dei Consigliere Comunale. Quindi in tal senso io dico continuiamo, cioè andiamo avanti nel senso, votate le Consigliere Comunale, votate, perché poi anche in questo c'è la responsabilità politica da parte della maggioranza, anche da parte della maggioranza, perché poi fare maggioranza significa votare le cose positive e le cose tentative. Noi, noi per quanto riguarda la retta, noi per quanto riguarda la retta di organizzazione abbiamo fatto, insomma, ne abbiamo votati, l'opposizione non era mai votata, insomma, quindi l'opposizione non era mai votata. Volevo poi fare una considerazione, insomma, c'è la possibilità di intransire il Consigliere il Consigliere Comunale, che sarà l'avanzo, perché non lo faccio più giusto, volete portare a conoscenza e quindi anche come proposta, insomma, la possibilità per i vari contenziosi di provenire a transazioni, insomma, questo che è uno strumento riconosciuto giuridicamente, soprattutto quando si ha la percezione che quel contenzioso comunque ha dato del Comune e tutti quanti sappiamo l'assessore lo sa, che se si procede con le transazioni, che probabilmente decade il concetto di tempo oppure il bilancio, entra in una gestione ordinaria, con le imputazioni di social capitali, interessi e le valutazioni, io credo che è la protetta di conti della Sicilia che diceva che ci sia la sensazione, io non c'è la spiegazione, ma io non c'è la testa di conti della tribuna, credo che se che a forza dell'administrazione, che vale questa attenzione, si possa portare dei benefici semi e quanti, grazie. Allora, io vi tengo in sala presenza, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.